Ciao a tutti, incontro introduttivo su Foscolo. Come sempre ci avvaliamo della presentazione del PowerPoint che puoi trovare nella sezione Matera Didattico che ho intitolato L'ultimo spirito rimbelle del neoclassicismo. Ma ci interessa appunto mettere in rilievo che è difficile etichettare questo autore. L'avevamo già messo in evidenza in relazione al panorama più ampio del neoclassicismo, preromanticismo e romanticismo. Adesso entriamo nel dettaglio. Cosa vuol dire che è difficile etichettarlo? Abbiamo trovato delle componenti che si possono ascrivere al neoclassicismo. Sì, cioè in particolare l'antico e il mito sono sentiti come attuali. Quindi è un dialogo costante con queste due realtà che sono ovviamente lontane sia a livello cronologico ma anche a livello, direi, più esistenziale. Come ancora, le forme predilette sono quelle classiche, forme sotto tutti i punti di vista. La cubona formale, in generale, delle opere di Foscolo, vedremo è estremamente, estremamente elevata. E questo possiamo dire che è una caratteristica propria della nostra letteratura in generale. La letteratura italiana avrà sempre questa caratteristica, una forse, forse per questa componente ovviamente fortemente classica che ha alle sue radici. E ancora, la poesia e la bellezza, questo è un concetto al quale arriveremo proprio oggi leggendo le odi, la bellezza e la poesia rendono eterne le azioni degli uomini, la bellezza delle donne, in generale le gesta importanti degli esseri umani. E questo è di gusto neoclassico, basti pensare a Orazio, che se è di Monumento, Maire, Perenius, dice a un certo punto, per cui sicuramente anche questo è ascrivibile alla componente classica della nostra letteratura. Perché no? Anche il sensismo illuminista, che vedremo così operativo in alcuni sonetti, sicuramente nei sepolchi, è ascrivibile in senso lato, in senso ampio, al neoclassicismo. Ma ancora, aggiungiamo che ha delle componenti pre-romantiche. Penso in particolare, basta guardare il titolo delle opere più importanti, o l'opera per cui lo ricordiamo, i sepolchi, per ascriverlo appunto a questo movimento, perché parla di cimiteri, di tombe, di, appunto, anime del passato. Ecco, questo sicuramente fa parte dell'ambito pre-romantico. Come anche la lotta titanica contro la natura, lo vedremo accennato in alcuni passi delle ultime lettere di Jacopo Ortiz, come anche dei sepolchi. E infine, il potere delle illusioni, cioè quel valore enorme dato alla irrazionalità, che evidentemente è ascrivibile all'ambito romantico o pre-romantico. Due panori sulla vita. Due panori sulla vita per farci vedere in che senso, anche in questo caso, possiamo definirlo come ribelle, una vita certamente movimentata. 1778 nasce a Zante, un'isola dello Ionio, che a quel tempo era parte della Repubblica Veneziana, da madre greca. Queste, che sembrano particolari, assolutamente irrelevanti, secondari, invece diventeranno poi importanti nel corso della nostra esistenza, e ne ritroveremo traccia anche in alcuni suoi schede. Azzacini, per esempio. Nel 1788 inizia la Revoluzione Francese, per ricordarcelo. Pugge sui colli eugani, perché? Perché teme le persecuzioni anti-Giacobine, che sono in atto. E allora, nel 1996, vediamo come Napoleone conquista l'Italia, e questo ovviamente fa intravedere grandi speranze in Foscolo e in buona parte degli intellettuali italiani, speranza che naufragano tristemente davanti al Trattato di Campoformio, in cui Napoleone vende il Veneto agli austriaci. In conseguenza, quindi nel 97, proprio in conseguenza del Trattato di Campoformio, è costretto a lasciare Milano per fuggire via, a... ...per fuggire a Milano, lascia Venezia. Però Milano è un luogo interessante, perché, abbiamo già detto nell'incontro sull'illuminismo, che è ormai capitale italiana della cultura, è legata a filo doppio con Parigi. Parigi che, evidentemente, in qualche modo influenza quella che è la scrittura, l'opera di Parini e Monti, che Foscolo incontra personalmente. Lo dico appunto non per il gusto del particolare, ma perché? Perché l'incontro con Parini lo ritroveremo, ovviamente trasfigurato nella finzione letteraria, proprio nelle ultime lettere di Jacopo Ortis. Nel 98 abbiamo, per ovvio, la pubblicazione di quest'opera che ho appena citato, un'opera che conoscerà molti modifichi, molti cambiamenti, fino addirittura al 1817, una decina d'anni prima della morte. Nel 1803 comincia la composizione delle Odi e dei Sunetti, e nel 1807 è proprio il Carme dei Sepoltre, che sarà di lì a poco pubblicato. Nel 13 cominciano i guai, tra virgolette, per Napoleone, perché viene prima sconfitto a Lipsia, poi a Waterloo, e poi appunto abbiamo il Congresso di Vienna. Ed è proprio indipendenza del Congresso di Vienna e della conseguente restaurazione che in qualche modo Foscolo decide di fuggire dall'Italia. Lo considera ormai un luogo invivibile. Fugge prima in Svizzera, per poi passare in Inghilterra, dove, in condizioni veramente miserrime, nel 27 morirà appunto in un subborgo di Londra. Ho lasciato un ultimo spazio, ho lasciato un ultimo spazio per il 71, evidentemente dopo la morte, parecchio tempo dopo la morte, è appena nata l'Italia nel 71, e vengono portate le ossa di ciò che è il resto, del corpo di Foscolo, vengono portate nella chiesa di Santa Croce a Firenze, da lui tanto cantata nei Sepolchi. Quindi un'esistenza piuttosto travagliata, appunto in dialogo costante con la politica, in dialogo costante con alcuni degli autori più importanti dell'epoca. Ma entriamo appunto nel dettaglio dell'opera, cioè secondo la critica testuale, individuiamo, questo vale per tutti gli autori, lo vediamo nel dettaglio di Foscolo, per tutti gli autori, per ciascun autore, si può individuare un macro testo, cioè il capolavoro, verso il quale, in qualche modo, poi vedremo nel dettaglio quale, le altre opere, le cosiddette opere minori, ma non perché sono di minor pregio, ma perché appunto concorrono in qualche modo a questa che è l'opera che normalmente si posiziona, appunto quasi in conclusione della vita, nel caso di Foscolo più o meno, abbiamo visto, 1807, stiamo ovviamente parlando di Sepolchi. A questo macro testo confluiscono, appunto, altri micro testi, uno, due, tre, cinque, ovviamente sono diverse le possibilità teoriche. Allora, questo schema, come si applica alla produzione letteraria di Foscolo? Ho mantenuto dei stessi colori, ma più o meno ben accostati, ma insomma, vediamo. Ai Sepolchi, appunto, confluiscono i sonetti, l'Ortis e infine le Odi. Questo è lo schema di base che terremo durante la spiegazione di Foscolo. E conviene tenerlo a mente, perché evidentemente ciascuno, poi ci sarà una slide rassuntiva su questo, però ciascuno di queste opere apporterà qualcosa che poi ritroveremo o confermato o al contrario, invece, cancellato nei Sepolchi stessi. Allora, entriamo nel dettaglio delle Odi. Oggi, appunto, la lezione verte essenzialmente sulle Odi. Le Odi sono tre, ne parleremo essenzialmente di una. A Luigi Rallavicini, caduta da cavallo, trovi a pagina 612 e seguenti la sintesi, il testo, eccetera, eccetera. Rimando, ovviamente, al libro per qualsiasi tipo di approfondimento. Vediamo brevemente qualche cosa. Ieri, questa Luigi Rallavicini, una nobile genovese, che nel caso volle, che appunto, durante una partita di caccia, cadde. Caduta da cavallo, appunto, riporta ferite, deturpanti al volto, quindi quella donna nobile, bella, che era prima, è ormai diventata altro. E ovviamente, l'incidente fece scolpure nella Genova Bene dell'epoca. Evidentemente colpì anche lo stesso Foscolo, che ne approfitta per parlare, come sempre, della bellezza, della bellezza, che è, praticamente, il tema delle odie. Ho presentato qui un riassunto in prosa, te lo lascio da leggere, lo potrei leggere con calma anche durante la, quando studierai questa presentazione a PowerPoint, non mi sembra così importante adesso fermarsi, appunto. Comunque c'è, tanto per dire, appunto, oltre al concetto della bellezza, c'è l'idea appunto del classico. C'è un accostamento fra questa Luigi Pallavicini e Pallade. C'è un riferimento alle arti virili di Marte. Perché lei, appunto, è andata a cavallo seguendo le arti virili di Marte anziché quelle delle Muse? Questo ha detto, ma Nettuno risospinge il cavallo che cerca di entrare nel mare, cioè nel regno di Nettuno. Per dire che cosa, ancora una volta, quello che ci siamo detti nella seconda slide, cioè che la componente classica nella poesia italiana, in particolare nella poesia foscoliana, è fortissima. È fortissima. L'odi su cui ci fermiamo un po' di più è un'altra, cioè l'odi all'amica risanata, siamo sempre nel 1803, siamo all'inizio del 1800 quando scrive, l'abbiamo detto, sonetti e odi. Di che parla? Antonietta Fagnani Arese, una conoscente amata, dicono, il gossip dell'epoca, è amata dal poeta, Re, procede da una grave malattia, torna in società più lieta e più bella. Allora, ovviamente, Foscolo ne approfitta a guardare caso per parlare della bellezza, delle caratteristiche della bellezza, ma anche della poesia. Anche in questo caso ti lascio qui da leggere con calma il riassunto della prosa dell'intera ode che è divisa chiaramente in due parti e ancora una volta insisto sulla componente fortissimamente classica. Intervengono quando diciamo di dialogo con l'antico, ecco, intervengono proprio in questa ode, ma intervengono a volte, sembra più fisicamente, intervengono divinità del mondo classico, ci sono riferimenti alle divinità o al mondo classico, al mondo mitologico in generale, e però si vede che non è questo effettivamente l'oggetto primario della composizione. L'oggetto primario è proprio la riflessione sulla bellezza. E allora io ti invito a leggere alcuni brani, non tutti, perché è un'opera difficile, complessa e anche non brevissima. E allora vediamo, seguiamo appunto il libro, sono i primi versi, i primi dodici versi, anche in questo caso come abbiamo visto nell'incontro con Parini ti lascio a fianco la parafrasi, perché è un testo complicato, è un testo complicato che merita sicuramente di essere letto e anche di essere apprezzato, perché in questo modo decisamente serve arte, serve arte nel senso più ampio e bello del termine, però forse per noi appunto anche dalla nostra sensibilità non è così proprio comprensibile, non è immediatamente intuibile il contenuto. E allora ti ho lasciato sulla colonna di destra la parafrasi, più o meno precisa, la trovi anche sul libro, ma insomma ecco, c'è un confronto appunto, guarda caso, come dagli abissi marini appare la stella cara a venere, ecco così, le tue, rivolte alla amica risanata, appunto, la Fagnani, le tue divine membra sorgono dal letto. Ecco, c'è un qualche cosa di arcadico, c'è un qualche cosa di Parignano dietro, no? Perché appunto il giovin signore che sorge dal letto, ecco questa donna che risorge dopo la malattia dal letto, ecco, in te torna, e questi sono i versi su cui vorrei si concentrasse la tua attenzione, ecco, in te torna, se la riferito sempre all'amica, ritorna a vivere la bellezza, beltà, rivive, laurea, beltate, quella bellezza d'oro onde ebbero al ristoro unico ai mali le nate a vaneggiare menti mortali, cioè quella bellezza dalla quale le menti dei mortali destinate per natura a illudersi, vaneggiare, è un verbo pesante nella letteratura italiana, sempre vanamente ebbero l'unico conforto ai loro mali. E allora, un piccolo messaggio, un piccolo messaggio da cogliere subito è che appunto la bellezza risulta essere unico ristoro ai mari, ha un potere consolatorio sugli animi umani che normalmente si perdono appresso a vani e passioni. Dobbiamo mettere un bollino? Mettiamo un bollino, questo è un gusto neoclassico, è un accenno di gusto squisitamente neoclassico, quindi se proprio dobbiamo mettere, ripeto, un bollino e un'operazione assolutamente assurda, nei confronti della poesia, però se dobbiamo sezionare e catalogare i brani di questa oda certamente questo è ascrivibile al neoclassicismo. Ma andiamo avanti, nella seconda parte della poesia il discorso si fa un po' più filosofico, anche nell'analisi del testo del nostro libro troverai citato in questo modo. Mest, le grazie mirino chi la beltà fugace ti membra il giorno dell'eterna pace, cioè e le grazie guardino sdegnose chi ti ricorda che la bellezza è fugace e che devi anche tu morire. Ecco, guardino sdegnose, cioè le divinità guardiano con un po' di sufficienza a questo luogo comune che la bellezza passa, che la morte incombe, perché in realtà sta per impostare invece un concetto ben diverso Foscolo. Appunto, vediamo come va a finire. Come sempre, ricorda, mette in mezzo delle divinità classiche. In questo caso Artemide, con una scrittura veramente complicata, Foscolo ci suggerisce che, vada un po' sintetizzando il contenuto di queste estrofe, poi, ripeto, puoi leggere al testo originale a sinistra nella parafrasi a destra, va a dire che alcune donne capaci, importanti, ma donne mortali, eh, qua vediamo proprio scritto qui, mortale, guidatrice di oceanine vergini, ecco, Artemide, Diana, no, della divinità, della caccia, era un tempo una donna mortale alla guida delle ninfe oceanine che viveva sulle pendici del Monte Parrasio. Ecco, questo era, questo era quello che poi sarebbe diventata la dea Artemide, come? Da verso 61 ce lo spiega, lei predicò la fama Olimpia Prole, qua ovviamente è estremamente difficile la scrittura, nel senso che si vengono a confondere, come per il nostro animo, poco le nostre orecchie, poco sensibile, la fama, soggetto, diffuse la credenza che fosse di progenie divina, che fosse figlia di Giove, ma pavido, il mondo, la chiama diva, ecco, impauriti di umano e la chiama una dea. Cosa è successo? Una donna mortale è divenuta divinità, eh, e la consagrarono l'oltretomba, le frecce infallibili, i monti e la luna. Ecco, questa è poi nella mitologia classica Artemide. Primo esempio. Secondo esempio, Bellona, lo stesso modo il canto dei poeti dedicò altari a Bellona un tempo a mazzoni invincibili, ma quindi anche lei, donna che si dedica alla caccia, cioè, ma donna, donna mortale, non divinità, sono i dei che l'hanno resa invece divina. Ecco, c'è un accenno ovviamente polemico nei confronti dell'Inghilterra che è definita Avara, no? All'Anglia Avara perché evidentemente ingorda di vantaggi commerciali e coloniali contro la quale si sta muovendo adesso Napoleone, no? nel 1802. Allora, sintesi, quello che dicevamo prima, semplici donne, quali erano Diana, Bellona e le versi successivi al 72 con le quali abbiamo finito il nostro brano antologizzato, Venere, diventano delle idee eterne, cioè la bellezza ha una funzione eternatrice, come anche l'accenno appunto che troviamo al vocale e l'icona appunto il monte caro alle muse padre degli dei la poesia ha la medesima funzione eternatrice della bellezza. Di nuovo, ci serve un bollino chiudiamo mettendo il bollino gusto neoclassico anche a questo brano. In sintesi, dalle odi che cosa ricaviamo noi? Ricaviamo una estrema cura formale e un messaggio forte, cioè che la bellezza e la poesia hanno una funzione eternatrice. Sono questi i due elementi per cui le odi sono microtesto dei sepolcri. Sono questi due concetti, queste due caratteristiche di base che noi ritroveremo di vari passo nell'analisi poi dei sepolcri che faremo nei prossimi incontri. Alla prossima!